Secondo me deve essere considerato lui la base della corsa per quanto ha fatto vedere alle ultime. Attenzione a Rea Silvia, anche se l'ho vista sgambare, non era perfettissima in curva. Rufina Spin dà sempre la sua linea, la sorpresa può arrivare da Russell Dete, che ho visto sgambare molto bene. Stanno andando, grazie, alla prossima. Ottava ed ultima corsa all'ippodromo delle Capannelle, in pista a 4 anni i vincitori da 4, a 24.000 euro in carriera, 1.640 i metri. Sono in 9 Alvia, numero 1 Rea Silvia, 2 Remox, 3 Rebelfare Bar, 4 Adpulance, 5 Russell Dete, 6 Roxana Dete, 7 Reddamore, 8 Ringo Starr, 9 Rufina Spin. Macchina che accelera. In partenza prova ad emergere Ratatouilance che va ad attaccare Remox, Ratatouilance è leader su Remox, poi lungo la corda vediamo il numero 3, Rebelfare Bar, precede Roxana Dete, ancora Rufina Spin, filtrata molto bene dalla seconda fila, 400 iniziali in 28,7 con il leader che sta imponendo andatura a svelta alla corsa. Prova a risalire all'esterno Gaetano Di Nardo con Ringo Starr, da fondo gruppo muove anche Russell Dete, 600 in 43,5 con Ratatouilance che viene accostata adesso da Ringo Starr, abbandona la corda Rufina Spin in anticipo su Russell Dete, cavalli all'attacco degli 800 passati in un minuto e otto decimi, è riuscita a rifiatare Ratatouilance ai fianchi del quale si riuscita la sagoma di Ringo Starr, chiusura del chilometro per Ratatouilance in accelerazione in 1,16 spaccato. Ringo Starr è sempre al suo esterno, abbandonato la corda Roxana Dete, ci sono stati problemi per Russell Dete, attacco della curva conclusiva, Ratatouilance saldo leader, Remox cerca lo spazio per sprintare, Ringo Starr sempre all'esterno, lungo la corda c'è Reber Flerbar, prova in mezzo alla pista, Roxana Dete, ultimi medico Ratatouilance che allunga in maniera agevole e deve difendersi dal finish di Remox nel finale, Ratatouilance viene ad affermarsi in maniera ancora chiara, per il secondo c'è una foto stretta tra il numero due di Remox che all'esterno Ringo Starr, autore di prestazione maiuscola, sul mio cronometro 1,59, media ufficiosa intorno all'1,14,4, si chiude nel segno di Giampaolo Minucci, segno due volte nel pomeriggio vista il successo ottenuto nel centrale con terra dell'est, una bella affermazione, stiamo rivedendo gli ultimi metri di corsa, il training è quello di Catello Saveresi, coloro di quelli dell'allevamento Nuova Sbarra, vediamo per il secondo posto, con Ringo Starr, un coriaceo Ringo Starr che proprio nei pressi del palo riesce ad avere la meglio su Remox, 4-3, 8-2 e questo è l'ordine d'arrivo ufficioso per quanto riguarda l'ottava e l'ultima corsa dalle capannelle, Emanuele Cardona vi saluta e vi auguro una buona serata, prossimo appuntamento per sabato 29 novembre.